La Giunta Municipale ha approvato il piano di rafforzamento del servizio estivo della Polizia Municipale per il periodo dal 1 luglio al 1 settembre 2024. I caschi bianchi della città di Agropoli saranno in servizio tutte le sere fino alle ore 1 e nei fine settimana del mese di settembre. Il piano di lavoro prevede principalmente il potenziamento dei servizi di Polizia Stradale con controlli mirati per la repressione dei fenomeni diffusi di guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il servizio verrà espletato soprattutto all'uscita dei locali e dei luoghi turistici maggiormente frequentati dai giovani. Esso mira a rafforzare il senso di sicurezza da parte dei residenti e dei turisti nell'ambito della sicurezza urbana. Il piano in questione è finanziato con i fondi ex articolo 208 del Codice della Strada pertanto è autofinanziato. Vedrà impegnate due pattuglie anche nel turno serale dalle ore 19 all'una in aggiunta agli altri due turni regolari. Questo è reso possibile anche grazie al rafforzamento dell'organico avvenuto con l'assunzione dell'unità a seguito del concorso espletato nel 2023. Il potenziamento dei servizi di Polizia Stradale prevede altresì l'incremento dei posti di controllo con il supporto dei Targa System finalizzato a reprimere le violazioni al codice della strada per i veicoli circolanti sprovvisti della copertura assicurativa e delle prescritte revisioni. I fenomeni questi molto diffusi. Basti pensare che dal 1 gennaio 2024 ad oggi la Polizia Municipale ha sottoposto e sequestrato circa 270 autovetture sprovviste di copertura assicurativa.